Mi porto a casa la consapevolezza che sono ancora in tempo per poter vivere una vita meravigliosa, quella che penso di aver perso per sempre. Sono grato a tutte le persone meravigliose con cui ho condiviso questi tre giorni e le ringrazio dal profondo del mio cuore. Inoltre ringrazio Patrizia per essere sempre stata una guida, pur essendo una guida dal punto di vista spirituale, sempre molto concreta e di questo io le sono sempre molto grato. Grazie Patrizia e grazie anche a te Virginio.